In 20 anni ha raccolto dalla strada migliaia di libri. Per tutti, José Alberto Gutierrez non è un netturbino qualunque di Bogotà al lavoro per pulire le strade ogni notte. José è il signore dei libri. Nel corso del suo giro di raccolta col camion dell'immondizia mette da parte i volumi che qualcuno ha deciso di abbandonare. Casa sua è diventata una biblioteca a disposizione di tutti, gratuita, con scaffali che strabordano di libri. Siamo fortunati, credo che sia l'unica biblioteca al mondo in cui la gente viene per chiederci un libro in prestito e se ne va via con un volume in regalo. Gutierrez ha iniziato a collezionare libri trovati per strada nel 1997. Il primo è stato Anna Karenina, un volume abbandonato insieme a tante altre opere. Le ha portate a casa sua e qui ha creato la sua biblioteca che è aperta a tutto il quartiere. Si chiama La Forza delle Parole. Ho cercato di dar via ancora più libri, ma la gente continua a regalarmene. Allora pensi che sia una cospirazione dell'universo. Gutierrez vive nel quartiere operaio di Nueva Gloria, sud di Bogotà, un quartiere povero dove un'iniziativa come la sua è davvero utile a tutti. Vivo in un quartiere dove regnano la povertà e l'ignoranza. Imposti come questo i libri possono diventare anche un simbolo di speranza. Grazie. Grazie.